Io con lei mi sono trovata benissimo e lì ho avuto veramente, cioè le domande ai miei colloqui sono state le stesse domande che diciamo... Quindi diciamo come ragionamento durante i colloqui con i periti di selettore, insomma ti sei ritrovata molto di quello che abbiamo fatto noi nelle nostre consulenze, nei nostri incontri individuali in videochiamata, anche perché noi abbiamo svolto il corso Angelica Online, non in presenza. Esatto. Com'è venuta secondo te questa preparazione online col mio corso, col mental program appunto? Benissimo, io mi sono trovata veramente bene e grazie a questo corso ho anche conosciuto bene me stessa, perché a volte parlare anche di se stessi sembra facile ma non è perfetto.